Si è fatto venire l'acquolina al comune di Casal Maggiore e ora ci riprova. Dopo aver ottenuto 4,1 milioni di euro per la rigenerazione urbana dell'ex macello tra i pochi progetti finanziati nel nord Italia, tanto che era seguita una polemica da parte di Regione Lombardia che era arrivata a parlare di discriminazione territoriale, ecco che la giunta casalese ha deciso di candidare altri tre diversi progetti. Si parla di scuole anche di sport, dunque di palestre, perché se il nuovo palazzetto in zona Scuola Marconi resta un percorso a sé restante, ecco che altri spazi vanno comunque recuperati e nel caso specifico riqualificati. La prima candidatura riguarda l'adeguamento sismico dell'asilo Nilo Aroldi, di cui si dispone già di un progetto esecutivo del valore di 950 mila euro, già inserito nel piano delle opere pubbliche, che tende ad aumentare la sicurezza nei confronti di eventi sismici del Nido e ad efficientarlo in termini energetici. Vi è poi l'intervento più importante sulla palestra Marconi. La cifra qui si aggira sul milione e mezzo per migliorare sismicamente l'edificio, ampliare la palestra con nuovi spogliatoi, un nuovo locale tecnico, sistemando l'ex casa del custode e convertendola a spazi palestra. Infine la riqualificazione dell'impianto termico della palestra della scuola media di Otti, che verrà staccato dal resto della scuola e della sostituzione delle finestre a parete. Il progetto qui è in fase di elaborazione, la spesa complessiva dell'intervento è di 200 mila euro. Le risposte dal piano nazionale di ripresa e resilienza sono attese per marzo o aprile, ma va ricordato che qualora il finanziamento non andasse a buon fine, l'elenco dei progetti selezionati mediante la manifestazione di interesse distinti per tipologia costituirà in ogni caso l'elenco del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale, dunque rimarrà per tre anni sott'occhio anche ai governanti di Milano.